Scandalo di corruzione agita il mondo del calcio. Nazionale esclusa dagli europei. Un'esplosione di shock e scandalo sta scuotendo il mondo del calcio, portando la nazionale sull'orlo dell'esclusione dagli europei. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante Iscriviti e di lasciare un Mi piace. Le accuse sono gravi, le conseguenze potrebbero essere disastrose e tutti si chiedono chi è il colpevole dietro questo tumulto. La UEFA è pronta a sferrare un colpo micidiale con sanzioni immediate che potrebbero segnare la fine di un'era gloriosa per la squadra coinvolta. Le voci di corruzione circolano, gettando un'ombra oscura sul futuro del calcio internazionale. In una sequenza di eventi che ha lasciato il mondo intero con il fiato sospeso, la tensione è alle stelle mentre si aspettano ulteriori sviluppi su questa vicenda che si sta trasformando in un autentico thriller calcistico. Ma la rivelazione che ha fatto tremare il mondo del calcio arriva inaspettata. Una delle grandi potenze del gioco è al centro di questo vortice di corruzione. La Spagna, il paese iberico, noto per la sua maestria sul campo, ora si trova ad affrontare le conseguenze dei peccati della sua classe. Ma cosa ha scatenato questa tempesta perfetta nel cuore della Spagna? La verità è più sconvolgente di quanto si potesse immaginare. Dietro le quinte del potere politico, una trama oscura si snoda, coinvolgendo anche i vertici della federazione calcistica spagnola. Le recenti indagini hanno rivelato un coinvolgimento diretto della politica, con il primo ministro e sua moglie al centro di un caso di corruzione. Il coinvolgimento del governo spagnolo non ha fatto che alimentare il fuoco delle polemiche con la UEFA e la FIFA che ora minacciano di cancellare la partecipazione della Spagna agli europei del 2030. Le conseguenze potrebbero essere catastrofiche per una nazione orgogliosa del suo patrimonio calcistico. In un'atmosfera carica di tensione e incertezza, Il mondo del calcio tiene il fiato sospeso chiedendosi quale sarà il destino della Spagna e chi sarà chiamato a rispondere di questa tempesta di corruzione che ha colpito il cuore del gioco più amato al mondo. Le risposte sono incerte, ma una cosa è certa. Lo scandalo è solo all'inizio e le conseguenze potrebbero essere catastrofiche. Cosa ne pensate di questa situazione? Lasciate un commento con le vostre opinioni e teorie.